Io non vorrei che si parlasse di Prodi per nascondere il gravissimo problema che abbiamo Draghi in questo momento. Allora, tutti gli ultimi presidenti sono macchiati da un sostanziale tradimento dell'Italia. Questo è un qualche cosa che vale per gli ultimi, quelli che hanno visto le firme ai trattati con gli americani, Cassibile, la Sicilia, Napolitano, Ciampi. Napolitano lavora per il CLN negli ultimi due anni, nonostante che lui venisse dal fascismo. Lavora per il CLN negli ultimi due anni, poi diventa l'uomo del partito comunista che però andava in America costantemente. Sono tutti uomini di penombra e legati proprio alla tradizione peggiore di cui Dante parla del tradimento in Italia. Draghi è un uomo che inizia la sua carriera, o meglio la sua scuola, alta scuola di economia, con un tal Caffè, che era colui che in Italia aveva portato dei ragionamenti sicuramente di stampo liberista, ma con una profonda struttura sociale, filosofica, chenesiano, eccetera. E a un certo momento Caffè confida a Galloni, che in queste ore sta facendo una conferenza a Venezia, gli confida. Draghi ci sta tradendo, è passato dall'altra parte. Allora è sempre la solita storia. L'Italia è un paese grande, bello, con la migliore gente del mondo, ma i politici la tradiscono costantemente. Quindi Prodi sarebbe un altro, diciamo, un altro che soprattutto alla fine degli anni Ottanta, abbiamo citato il discorso della seduta spiritica, ma come si fa a giustificare una cosa del genere? Pazzesco, ragazzi. Abbiamo visto quello che ha fatto lui con Nomisma, ma soprattutto con la svendita dell'Iri. con l'aggancio, lui e Andreatta sono quelli che teorizzano la distruzione delle piccole imprese italiane, perché dicono sono un qualche cosa di impossibile da gestire, sono un qualche cosa che in Italia non serve più. Chiaro, loro già pensavano a Amazon. E questa è la filosofia che anima Prodi. Ma secondo me Prodi non è il pericolo. Il pericolo è presente. E Draghi, che viene con una filosofia ben precisa, certo farà il restauratore, farà quello che magari ci manda in vacanze prima di quello che ci avrebbe mandato Conte, però stiamo parlando del tradimento costante dell'Italia e o si arresta questo fenomeno continuo, costante, per cui abbiamo un grillo che per anni ci parla contro Draghi, contro i poteri forti, per la sovranità monetaria, eccetera, e poi si mette nel metto, si mette la mascherina, anzitempo, prima degli altri, e anche lui tradisce il popolo italiano. Basta, devono finire i tradimenti. Abbiamo bisogno di politici, di patrioti, di gente che creda nel proprio popolo e che possa assolutamente gestire la cosa pubblica come Dio comanda. Io ero attivo politicamente anche in quel periodo, assolutamente contro il DC, PSI, PRI, eccetera, eccetera, anche contro Craxi e contro, appunto, Andreotti, eccetera, eccetera. Va detta però una cosa, c'era una classe politica più collegata con il popolo, con una formazione ideologica e dottrinaria molto più forte di quella attuale, oltre che scolastica ovviamente. Il problema è che anche in questo caso, se Craxi è costretto ad andarsene via, se finisce quel sistema, non è perché il popolo si ribella, ma è perché i poteri forti internazionali, gli stessi che hanno in un certo senso incoraggiato, mettiamola così, la narrativa Covid, decidono che le cose devono cambiare. Perché c'era stata Sigonella, per la prima volta un esercito, carabinieri, quindi un'arma italiana, si contrappone agli americani. Craxi paga quello scotto, come anche Andreotti che ha tenuto una politica abbastanza filo-palestinese. Quindi, purtroppo, anche se sono contento che quel mondo sia finito, perché era comunque un mondo che nasceva storto, nasceva sempre con quegli accordi, che guardate sono la base, noi ci svegliamo oggi, e lei fa politica forse da qualche anno, io vorrei che i politici attuali, o le persone che oggi parlano di politica, si rendessero conto che in Italia ci sono degli accordi che hanno un valore eterno, che sono stati fatti subito dopo il 1945, che hanno garantito la mafia, che hanno garantito i poteri peggiori, le massonerie più esterofili, gli americani, gli inglesi, e tutti quei poteri, e il Partito Comunista, perché un accordo nell'accordo è che il Partito Comunista doveva in un certo senso partecipare alla gestione del potere, e lì lui che cosa dice? Graxi, guardate che io i soldi li ho presi, ma il Partito Comunista prendeva le commesse del gas dall'Unione Sovietica, eppure non paga il Partito Comunista, perché? Perché quei poteri forti internazionali che tuttora dominano l'Italia, tuttora dominano Draghi, Napolitano, Mattarella, e anche tutti i partiti, quei poteri lì, oggi sono assolutamente fondamentali in Italia, e decidono loro quello che c'è da fare. Questa è la chiave. Tutto il resto, ragazzi, è secondario, sono contento che Draghi dice che adesso si possa andare in vacanza, ma è per gentile concessione loro, perché forse hanno capito che l'ultracapitalismo ha bisogno che noi lavoriamo ancora un po' per sfruttarci maggiormente, ma la chiave è questa, o ci si libera totalmente dal gioco dei grandi poteri forti nazionali, o siamo destinati a fare gli schiavi. Dante ce lo ricorda costantemente in questi giorni.